Gli ultimi numeri sulle terapie intensive ma soprattutto dare una lettura di questi numeri perché dietro ci sono dei significati e soprattutto noi parliamo di letti occupati ma su quei letti ci sono delle persone e quindi vorremmo anche spiegarvi bene quello che succede a queste persone. Allora da una settimana a questa parte noi abbiamo un'occupazione sostanzialmente stabile dei posti letto di terapia intensiva questo però non vuol dire che siano terminati gli accessi perché questo numero di letti rimane occupato a questo livello con un numero di pazienti tra i 20 e i 25 al giorno che entrano in terapia intensiva e quindi la situazione è tutt'altro che tranquilla perché un afflusso di 25 pazienti al giorno è un afflusso critico e in particolare noi sappiamo che ogni 200 persone positive uno finisce in terapia intensiva quindi se oggi abbiamo avuto 3.600 positivi vuol dire che di queste 3.600 persone 14 di loro entro i prossimi 10 giorni entreranno in terapia intensiva. una parte di questi pazienti sviluppa un quadro clinico estremamente grave e finisce in terapia intensiva dove questo quadro clinico non è facilmente trattabile nel mese di novembre la percentuale di pazienti che sopravvive è di poco superiore al 50% questo vuol dire che di quei 14 quasi 7 moriranno questa è una malattia che in queste persone porta a morte con un'elevata percentuale che è sempre la stessa quello che va anche evidenziato è che questi pazienti rimangono a lungo in terapia intensiva e che quelli che muoiono spesso ci restano 20 giorni in terapia intensiva e l'unico modo per ridurre questa percentuale di pazienti è ridurre il numero di positivi non c'è nessun'altra ricetta, non c'è una cura fino a che non ci sarà il vaccino, non ci sono misure di prevenzione diverse dal evitare la vicinanza e da usare i dispositivi di protezione che tutti conosciamo oggi metà dei pazienti ha più di 70 anni l'altra metà ha meno di 70 anni il che vuol dire che ci sono persone di 60, di 50, di 40 anni ricoverate in terapia intensiva ma la mortalità è elevata anche nei 50 anni, nei 60 anni grazie